In questo tutorial vediamo come risolvere equazioni fratte di secondo grado. Partiamo da questo esempio. Come prima cosa dobbiamo effettuare il minimo comune multiplo, prendendo come fattori x meno 1 e 4, ossia vado a prendere i fattori comuni e non comuni con il grado più alto. 4 per x meno 1 diviso x meno 1 mi resta 4 che devo moltiplicare per x più 1 alla seconda. Ricopio poi questo meno e questa quantità diviso 4 resta x meno 1 che devo moltiplicare per 9 per x più 1 e allora ottengo 9 per x più 1 che moltiplica x meno 1. Passo ora al secondo membro. Questa quantità diviso il denominatore di 2 meno x che è 1 rimane 4 per x meno 1 che moltiplico per 2 meno x e allora scrivo 2 meno x che moltiplica 4 che moltiplica x meno 1. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza andando a porre i fattori del denominatore diverso da 0. Ora 4 è già diverso da 0 quindi non scrivo nulla. Devo imporre invece che x meno 1 sia diverso da 0, ossia x deve essere diverso da 1. Torno ora all'equazione, effetto questo quadrato di binomio, queste moltiplicazioni e vado a riscrivere l'equazione in forma canonica. Dopo aver sviluppato questo quadrato di binomio, questa differenza di quadrati e moltiplicato 2 meno x per x meno 1, effetto ora le moltiplicazioni con i numeri. Raccolgo a primo membro e a secondo membro i termini simili e poi porto questi tre termini a sinistra ottenendo meno x quadro meno 4x più 21 uguale 0. Avendo il coefficiente di x quadro negativo moltiplico tutto per meno 1 ed ora applico la formula risolutiva. A conti fatti otteniamo meno 7 e 3. Questi valori sono diversi dal valore che abbiamo escluso dalla condizione di esistenza, allora sono valori ammissibili e sono le soluzioni di questa equazione. Risolviamo questa equazione. Osservo che posso moltiplicare tutte e due membri per x meno 1 e semplificare x meno 1 al denominatore e imporre come condizione di esistenza che x meno 1 deve essere diverso da 0, ossia x deve essere diverso da 1. Ora, portando l'1 a sinistra semplifico con l'1 a primo membro e quello che mi rimane è x alla seconda meno x uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado spuria. Posso mettere in evidenza una x e scrivere x per x meno 1 uguale 0. Ora pongo uguale a 0 prima il primo fattore ottenendo x uguale 0 e poi poniamo uguale a 0 il secondo fattore scrivendo x meno 1 uguale 0 da cui si ottiene x uguale 1 e allora le soluzioni sono 0 e 1. Osservo ora che 1 non può essere accettata come soluzione dell'equazione in quanto il valore 1 è stato escluso dal campo di esistenza. Se x fosse uguale 1 otterremmo 1 0 al denominatore e allora l'unica soluzione di questa equazione è x uguale 0. Risolviamo questa equazione. Come prima cosa fisso l'attenzione sul denominatore del secondo membro x alla seconda meno 4 e lo scompongo come differenza di quadrati scrivendo x meno 2 per x più 2. Una volta che ho fattori di primo grado eseguo il minimo comune multiplo andando a prendere fattori comuni e non comuni con il grado più alto. Il minimo comune multiplo sarà x meno 2 per x più 2 ed ora dividendo il minimo comune multiplo per x più 2 resta x meno 2 e allora vuol dire che meno 4x quadro deve essere moltiplicato per x meno 2. Passiamo ora al secondo termine. Questa quantità diviso x meno 2 resta x più 2 e allora vuol dire che il 2 deve essere moltiplicato per x più 2. Andiamo ora al secondo membro. Questa quantità diviso questa quantità è pari a 1 e allora vuol dire che devo semplicemente ricopiare 5 meno 4x alla terza. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza, ossia i fattori del denominatore devono essere diversi da 0 e scrivo x meno 2 diverso da 0 da cui si ottiene x diverso da 2 e dopo x più 2 diverso da 0 da cui si ottiene x diverso da meno 2. Eseguo ora queste moltiplicazioni e riscrivo l'equazione in forma canonica. Semplifico meno 4x alla terza con meno 4x alla terza portando il 5 a sinistra otteniamo 8x alla seconda più 2x meno 1 uguale 0. Ora applico la formula risolutiva. A conti fatti otteniamo meno un mezzo e un quarto. Questi valori sono valori diversi da quelli che abbiamo escluso dalla condizione di esistenza e sono le soluzioni dell'equazione. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa dobbiamo effettuare il minimo comune multiplo. L'unico fattore che possiamo prendere in considerazione è la x e allora x diviso x è 1 e questa quantità, 3x alla seconda più 5, la ricopio così com'è. x diviso il denominatore di x che è 1 ottengo x per x e scrivo x alla seconda e poi x diviso il denominatore di meno 1 che è 1 ottengo x e moltiplicando per meno 1 ottengo meno x. A secondo membro x diviso x è 1 per 5 ottengo 5. Semplifico i denominatori e impongo la condizione di esistenza, ossia x deve essere diverso da 0. Osservo ora che posso semplificare 5 con 5 e poi sommo tra x quadro più x quadro ottenendo 4x quadro e poi ho meno x uguale 0. Ottengo così un'equazione spuria e posso mettere in evidenza una x scrivendo x che moltiplica 4x meno 1 uguale 0. Pongo uguale a 0 prima il primo fattore ottenendo x uguale 0 e poi pongo uguale a 0 il secondo fattore scrivendo 4x meno 1 uguale 0. Ottengo così 4x uguale 1, divido tutte e due i membri per 4 e semplifico ed ottengo x uguale un quarto. Osservo ora che la soluzione 0 non la possiamo accettare in quanto 0 è stato escluso dalla condizione di esistenza dell'equazione. Infatti se x fosse 0 ad esempio qui otterrei 5 diviso 0 che non si può fare e allora escludo 0. L'unica soluzione ammissibile è x uguale un quarto. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione su x alla seconda meno 1 e scompongo x alla seconda meno 1 come differenza di quadrati scrivendo x meno 1 per x più 1. Ora che ho denominatore tutti i termini di primo grado posso effettuare il minimo comune multiplo prendendo i fattori comuni e non comuni con il grado più alto. Il minimo comune multiplo sarà x meno 1 per x più 1. Ora questa quantità diviso x meno 1 resta x più 1 che deve essere moltiplicata per 8 e allora scrivo 8 che moltiplica x più 1. Questa quantità diviso il denominatore di meno 3 è 1, resta proprio questa quantità e allora vuol dire che devo scrivere meno 3 che moltiplica x meno 1 per x più 1. Passiamo ora al secondo membro. Questa quantità diviso x più 1 resta x meno 1 che deve essere moltiplicata per 6 e allora scrivo 6 che moltiplica x meno 1. Poi ricopio questo segno meno e questa quantità diviso questa quantità è 1 e allora vuol dire che devo ricopiare x alla seconda più x meno 3 così com'è, mettendo tutto quanto tra parentesi. Ora posso semplificare i denominatori imponendo le condizioni di esistenza scrivendo il primo fattore x meno 1 diverso da 0 da cui si ottiene x diverso da 1 e poi imponiamo diverso da 0 il secondo fattore ossia x più 1 da cui si ottiene x diverso da meno 1. Eseguiamo queste moltiplicazioni e riscriviamo l'equazione in forma canonica. Dopo aver accolto i termini simili sia a primo membro che a secondo membro, portando questi tre termini a sinistra, possiamo moltiplicare tutto quanto per meno 1. In questo modo abbiamo il coefficiente di x quadro maggiore di 0. Ed ora applichiamo la formula risolutiva. A conti fatti otteniamo 7 mezzi e meno 2. Questi valori sono valori diversi da 1 e da meno 1, ossia i valori che abbiamo escluso dal campo di esistenza, allora sono valori ammissibili e sono le soluzioni di questa equazione. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere equazioni fratte di secondo grado.